Franco Piersanti, premio Ennio Morricone per la migliore colonna sonora. Che effetto le fa ricevere un premio dedicato al maestro Morricone? È un doppio premio direi, perché già un premio è una grande gratificazione di un lavoro che uno svolge sempre un po' da solo, anzi sicuramente da solo, e al quale non ci si pensa ovviamente, ci sono problemi da risolvere. Poi dopo un anno, casomai ti dicono, hai vinto un premio per quel film, poi il premio anche Ennio Morricone, come in questo caso, che è stato un maestro e un amico, quindi è doppiamente gradito. Lei ha lavorato con Nanni Moretti, con Gianni Amelio e poi con Virzi. Se dovesse attribuirgli un aggettivo ciascuno, cosa direbbe? O anche una composizione musicale? Che strano. Nanni Moretti direi un pezzo di Stravinsky, come potrebbe essere una Petrusca. Paolo Virzi sicuramente quello della lucidità che potrebbe avere un musicista come Ravel, così poetico e lirico, ecco, è molto scientifico anche. Gianni Amelio invece è una canzone popolare siciliana, perché è un grande autore che ha una grande anima vibrante proprio per un cuore molto, molto popolare. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.